Facilitare l'inserimento dei neolaureati nel mondo del lavoro e dotarli di tutte quelle competenze richieste dalle aziende è l'obiettivo dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale attraverso l'Integration Academy Unicas. Si tratta di un servizio di placement e trasferimento tecnologico basato sul potenziamento delle soft and hard skills. Significa dotare i ragazzi in questo progetto di competenze trasversali. Fatto salve le lauree che forniscono la preparazione di base, è utile unire queste competenze trasversali come ad esempio pensiero critico, pensiero analitico, la capacità di gestione delle relazioni, la capacità di stare in team, la creatività, la flessibilità, la passione, l'entusiasmo. Ecco, queste sono le soft skills. Bene, anche questa volta io penso che l'Università di Cassino sia all'avanguardia rispetto alle aspettative che tutti gli studenti italiani hanno, proprio in merito a questa formazione che riguarda un po' le soft skills, cioè quelle competenze digitali che sono oggi fondamentali per le imprese e che talvolta non vedono nei programmi ordinari un pieno approfondimento. Sono competenze trasversali, quindi che riguardano non soltanto gli studenti di ingegneria come si potrebbe facilmente pensare, ma riguardano tutti gli studenti. La prima edizione sperimentale dell'Integration Academy Unicas, frutto della coprogettazione con l'azienda R&S Management SRL, Microsoft Learning Partner, rappresenta un nuovo tassello importante per guardare al futuro dei giovani e dell'università. Sì, siamo un'azienda che oggi facciamo 30 anni e siamo nati, diciamo, da uno spin-off universitario e oggi facciamo un accordo molto importante con l'Università di Cassino e specialmente con il patrocino di Microsoft per la formazione specialistica di laureati di ogni disciplina verso il mondo Microsoft. Le aziende ormai ci chiedono sempre più spesso competenze che vanno al di là di quelle che sono le competenze hard che vengono da titolo di studio, ma competenze che vengono chiamate soft, cioè capacità di saper fare. Quest'academy si pone proprio con questo obiettivo, quello di colmare quel piccolo gap che c'è tra l'operazione universitaria e alcune richieste del mondo del lavoro con alcuni contenuti soft skill e poi con dei contenuti specifici che i ragazzi andranno a fare nelle aziende.